Un gioiello non solo per Verona ma che ci invidia il mondo intero. L'Arena ogni anno accoglie 700.000 spettatori e 800.000 visitatori. Ma si sa, anche le bellezze più longeve necessitano di cuore per non vedersi sconfitte dal tempo. A questo servirà il mix di interventi che dopo anni di studi garantirà la buona salute dell'Anfiteatro Romano. Il progetto definitivo condiviso con soprintendenza e Fondazione Arena si articola in due capitoli, quello della conservazione del monumento e quello dell'adeguamento strutturale, con uno sguardo a sicurezza e innovazione tecnologica. Si va da alcune operazioni contro le infiltrazioni fino al rifacimento degli impianti elettrici speciali di sicurezza e antincendio per passare poi ai servizi igienici che cambieranno volto. Va bene che l'Arena vive di luce propria ma un impianto di illuminazione scenografico esterno assicurerà poi che il suo spettacolo si veda anche di sera. Ammonta a 14 milioni il finanziamento che arriverà per metà da Unicredit e per l'altra da Fondazione Cariverona. Durerà quattro anni e sarà uno degli interventi più sfidanti, visto che il cantiere potrà essere attivo solo tra novembre e marzo, prima che inizi la stagione lirica e tutto il calendario culturale che l'accompagna. Abbiamo deciso di intervenire per le cose fondamentali, magari quelle che si vedono meno ma quelle che servono. E quindi quello che permetterà al nostro monumento di stare in buona salute ancora per tanti altri decenni.